Mi do a Condor 1. Ho trovato delle informazioni su Luis Serra. Sembra facessi il ricercatore per l'Umbrella. Umbrella? Avrei dovuto lasciarlo marcire in quel sacco. Ti invio tutti i dettagli. Da un'occhiata, ma Aquila Reale è la priorità. Ricevuto. Mi dirigo verso la chiesa. Condor 1, chiudo. Anche tu, eh? Fai attenzione, amico. Quanti sono? Grazie a tutti. Grazie. 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 Cazzo. Condor Uno a nido. La chiesa è sigillata. E Aquila Reale? Negativo. Ancora nulla. Ma di certo si sono preoccupati di chiudere... Ebbene. Capisco. E posso anche immaginare perché l'abbiano fatto. Ah, lei si trova qui, è sicuro. Riuscirò a entrare. Condor Uno, chiudo. Ok. 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 Il lago. Speriamo che non ci siano altre sorprese. Via dalle palle. Alla prossima. 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 Finito. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Sono un bel bocconcino, vero? Alla prossima. prophecy. Dove sei andato? Alla prossima. Cazzo, hai la pelle nuca. Devo fare qualcosa. Devo fare qualcosa. Devo fare qualcosa.